Gli autori sono gli stessi CGL CISL e UIL insieme. Anche il decalogo è lo stesso ma aggiornato secondo quello che è stato fatto e soprattutto quello che c'è ancora da fare. Il documento viene posto all'attenzione dei candidati alla presidenza della regione Abruzzo. Per quanto riguarda la programmazione è alla base di qualsiasi scelta che la politica debba fare. Noi abbiamo sempre lamentato una carenza della politica industriale in questa regione e avevamo creato strumenti come il masterplan, la carta di Pescara, il patto per lo sviluppo che dovevano servire a questo. Purtroppo questi strumenti sono stati poco utilizzati e poco cantierati. Noi abbiamo riaggiornato questi strumenti ma li rimettiamo al centro della discussione con tutte le forze politiche e con tutti i candidati. Si deve partire da lì per cercare di dare una politica industriale al nostro paese. A questo aggiungerei uno strumento nuovo che è nato da poco ma che è molto importante, la ZES, la zona economica speciale, che potrebbe dare una linea strategica complessiva di riavvio di una politica forte occupazionale e produttiva in una zona importante del nostro Abruzzo ma che poi si estenda all'interno con il famoso corridoio tirreno-atriatico che noi stiamo cercando di sostenere. Noi abbiamo il problema che c'è anche il resto del paese, cioè come superiamo l'aspetto della precarietà che in questa regione continua a essere un elemento primario. Purtroppo nei mesi passati, negli anni passati con questa giunta regionale non siamo riusciti a chiudere gli accordi che avevamo portato avanti, che potevano dare un segnale positivo anche sul tema dell'occupazione, di quell'occupazione di qualità che ancora questa regione non riesce a cogliere appieno. Su questo tema noi vogliamo aprire il confronto con il nuovo presidente della giunta regionale, con la nuova giunta regionale che ci può e ci deve dare delle risposte che nel passato non abbiamo avuto in maniera del tutto compiuta. Bisogna accelerare sulla ricostruzione, oltre ai temi del lavoro quindi delle infrastrutture c'è anche il tema della sanità sociale che è molto importante, abbiamo una grave carenza di personale negli ospedali pubblici, manca personale sanitario, bisogna procedere alle assunzioni, bisogna riqualificare il nostro sistema sanitario, potenziando le strutture territoriali, dobbiamo abbattere le liste di attesa e dobbiamo dare seguito anche a degli accordi che avevamo sottoscritto il precedente governo ma che non sono andati in porto, mi riferisco ad esempio all'eliminazione del super ticket, così come dobbiamo pensare ad una regione che invecchia e che quindi ha sempre più bisogno di risorse per il sociale, per le fragilità e per la cura delle disabilità.